E ora i vincitori del premio Ischia di giornalismo rinviato a settembre. Claudio Ciccarone. È stata rimandata all'11 e 12 settembre la 41esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo. La manifestazione che si doveva tenere a giugno non perde comunque di sostanza. Ritirare il premio principale per le sue immagini pubblicate sul New York Times che ritraggono gli eroi italiani che hanno combattuto contro il Covid-19. Nelle altre sezioni saranno premiate le eccellenze del giornalismo italiano con una folta rappresentanza di redattori della RAI. Anche quest'anno grandi nomi del giornalismo, da Giovanna Bottera a Gianni San Giuliano a Gianni Minà, storico giornalista sportivo. Ci saranno moltissimi ospiti, ci sarà un grande cartellone di eventi con collegamenti in streaming con tutti i giornalisti premiati negli ultimi 41 anni. Il premio Ischia il 12 settembre sarà, come al solito, un grande palcoscenico per l'isola di Ischia e per il giornalismo italiano.